Va, via. Va, 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 va! Ok. No, no, no! No! Che c***o! La magica tifetta ce la fa! Yeah! Se ci riprovo mille volte non ce la faccio. E qua me la sono andata a cercare. Qua è l'unico livello che mi piace prendere le monete rosse. Ma le prenderò dopo, dato che c'è tempo. Questo livello qua è bellissimo. Questo livello è proprio fighissimo. Eh eh! Mi fate in fretta. È perché l'ho imparato ieri il trucchettino di saltare. a calciare perché sennò ci mettevo vent'anni. Yeah! Non è che finiamo in fretta così ce ne andiamo anche un po' avanti. Sono ansiosa di andare avanti. Eh, vabbè. Qua sono stata cogliona! No, no, no! Qua sono stata cogliona! Ok. Direi che faccio questo livello e poi vado a recuperarmi qualche vita. Perché sono veramente cogliona. Vabbè, no. Qua sono morta da stronza, da cogliona. Ma perché ho fretta? Ma più che altro, io questi livelli qua li ho già fatti ieri. Perché ripeto, doppiare sopra i miei video mi sembra... Mi sembra da cogliono. A parte che non sarei nemmeno spontanea. Eh, dai, per un po' di lava. Adesso prendiamo la moneta gialla e ti riprendi, dai. Allora, prendiamo anche quella, così non rompi il cazzo. Oh! Oh! Chi è il prossimo? Chi cazzo lo prenderebbe quell'extra, ma? Ci deve essere un guscio da qualche parte, perché è impossibile arrivare là. Scusa, ma cazzarola... Oh, ok. Ci voleva tanto? No. Viene, bene, 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 bene. Se ci deve essere un guscio da qualche parte, perché come cazzo si... Chi è quel coglione che andrebbe là soltanto? Per un extra poi, no, no. Lasciamo stare. Riprendo la vecchia maniera. Bene, 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 bene. Ah, questo è l'unico livello a cui mi piace prendere le monete rosse. Questo è proprio bello. Anche perché sono tutte lì riunite. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Abbiamo fatto già! Yeah! Sì! Dai, finiamo in fretta e andiamo verso nuovi orizzonti. Guarda che sto facendo anche relativamente presto, quindi faccio anche qualche altro livello. E dai, per un po' di lava, questo vuol che sia. Non ho tempo per giocare con voi, stronzi. Ma perché non c'è una telecamera decente? E qua ho avuto anche sfiga. Quindi qua non devo cadenare, se no sono morta. Va bene. Ok. Fiu! Ok, guardiamo il vulcano. E che palle, ogni volta faccio lo stesso errore. Yes! Allora, qua non devo fare come ieri e fare la deficiente di corsa, ma devo prendermela con calma, perché non è difficile. Devo solo andare con calma. Questo mi sta sul cazzo. Questo che ieri mi ha fatto cadere. Ok. Via. Vieni, non era tanto difficile. Io ci ho messo vent'anni a fare questa. Ma dettagli. Yeah! Bene, facciamo l'ultima, poi verso nuovi orizzonti. Ok. Allora, qua non l'errore di prima. Questo qua mi sta spingendo. Ok. Che c***o. Good. Wow! C***o. Anche questa non era niente di complicato, devo solo andare con calma. Però questa è leggermente più difficile di quella che ho preso poco fuori. Leggermente più difficile. Però anche qua, se vado con calma, ce la fa, ce la fa. Monci, monci. Allora. Track. Track. No, no, no. Ok. Più. Primo colpo. Bene, 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 bene. Allora, direi che ce ne andiamo avanti. Laddove? Di qua, dai. Uh, bello questo. Prendo il potere metallico. Allora facciamo il primo. Sì, mi ho messo di aca. Ok. Facciamo questo. Sarà questa la strada giusta per andare da sotterranei? Non mi pare. È che mi tocca... Mi tocca tornare di qua perché non ce la faccio tornare di là. No, 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 no. È che ce la fa? Ok. Sto andando giusta? Sì, che culo. È il primo colpo. Ok. Eccolo lì. Il mostro di Loch Ness. Bravo, di qua. No! Devo risaltarti in groppa. Ok. Ma no! Perché non riesco? Dai, Nessi! Ci voleva tanto. Bom! Allora direi che andiamo a prendere subito il potere metallico. Aspetta che c'è un Toad, vediamo. Che cazzo vuoi? Mi dai una stella? Figo. Carissimo, grazie mille. Ti amo, ti adoro. Come una vacca sotto il toro. Grazie, ciccino. Ma andiamo a prendere il potere metallico e continuare le altre stelle. No, quel cazzo che prendo le stelle rosse. Prima prendo il potere metallico. Poi... Si vedrà. Eh vabbè, dettagli dai. Quella lì non me la ricordo bene come si prende. Quella stella. Dovrò riesplorare e vedere se mi si attivano le meningi. Quella lì non me la ricordo. Mi sfugge. Lega non c'ho voglia di aspettare. Bene. Nessi! Ciccina mia, dove sei? Nessi? Nessi! Nessi! Di qua. Bravissimo, Nessi. Sei proprio un bravo cucciolotto. Beh, vabbè che non c'era bisogno che andassi. Non c'era bisogno. Ah sì che mi serve andare in groppo. Lì, ciccino. Proprio lì. Ok. Ok. Prendi questo. E questo. E questo. Fuck you, bitch. Ma questa stella qua, cioè, sì, quelle monete rosse le prendo adesso, dai. Non è una rottura di palle come il wing cup, in teoria. Ok. Ok. Andiamo a premere il bottoncione. Proprio che poi. Grazie. 3, 4. 5. Sono tutte in acqua allora. Yeah, 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 yeah! Sì, salvami. Che adesso prendo le monete rosse mancanti. Mi piacciono i capperi. I capperi, capperi. Che culo, ci sono vicina. Bene. Sono contenta. Bene, proseguiamo. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa.